Si ritorna finalmente a Rabir Thailand, ma prima bentornati a tutti nel mio canale, io sono 8x e oggi andremo a dare un primissimo sguardo alla nuovissima season 3 in arrivo questo 3 di aprile. Se ancora non l'hai fatto però ti invito a lasciare like, iscriverti al canale, lascia un commentino, fammi sapere che cosa ne pensi di questa nuovissima season. Vai a seguirmi anche su Twitch dove mi trovi in live praticamente ogni sera a partire dalle 21.30 e se non mi segui su Twitch, niente, non sai che cosa ti perdi. Scusate quindi se comunque non guardo la videocamera, ma appunto vi sto illustrando tutto ciò che vi comparirà qui a schermo. Allora come ben saprete su Call of Duty arriverà Rabir Thailand, quindi ritornerà più in forma che mai. La mappa comunque sembra che non abbia subito nessun tipo di modifica e resterà invariata se non per qualche chicca che adesso andremo a vedere. Ecco qui la roadmap che avremo della season 3 a partire per l'appunto dal 3 di aprile. Nel frattempo vi lascio al trailer ufficiale per questa nuovissima season 3. Questa credo che sia attualmente la season migliore dopo la prima e la seconda che comunque sono state molto col punto interrogativo. Ovviamente il ritorno di Fortune Skip è stato il punto di svolta che ci ha fatto tornare praticamente a Rabir Thailand. È stata una mappa ritorno appunto molto votata positivamente dall'utenza e quindi è per questo che si sono subito mobilitati a far ritornare Rabir Thailand. Che cosa ci offre la season 3 di Warzone? Allora tanto per ricominciare per quanto riguarda il multiplayer ci offre 6 nuove mappe 6 contro 6. In questo momento state vedendo scorrere per l'appunto queste mappe. Ovviamente sempre per quanto riguarda il multiplayer arriveranno 4 nuovissime modalità multiplayer. Tra cui cattura la bandiera che arriverà subito al lancio. Arriverà anche One in December praticamente una modalità molto divertente introdotta per la prima volta per l'appunto nell'originale Call of Duty Black Ops. E premia il giocatore che possiede una mira straordinaria. In corso di season uscirà anche una modalità chiamata Campo Minato per l'appunto una modalità anche essa molto divertente. Che consiste nell'uccidere diciamo un player nemico e ogni qualvolta appunto viene effettuata la kill viene posizionata al posto del cadavere una mina. Che non può essere comunque raccolta dalla squadra avversaria e che sarà praticamente un ostacolo diciamo per gli avversari affinché praticamente possano riuscire diciamo a sopravvivere. In corso di season arriverà anche la modalità di gioco scorta e ovviamente non potevamo arrivare che nella parte migliore per quanto riguarda il competitivo. Subito al lancio comunque si aggiornerà appunto la modalità Ranked per quanto riguarda sia il Multi sia per quanto riguarda la modalità Battle Royale. Avremo signori miei sempre diciamo dei premi in base diciamo al rango aggiornati, dei premi quindi aggiornati in base al rango in cui ci troviamo. E anche per quanto riguarda la modalità BR quindi avremo la modalità bronzo, silver, gold e poi cominceremo diciamo dal platinum e poi cominceremo a sbloccare anche delle skin che rispecchiano il nostro grado in Ranked. Subito al lancio della season 3 arriveranno anche 5 nuovi perk. In corso di season arriveranno anche nuove sfide e progetti da sbloccare all'interno delle varie mappe multiplayer. Adesso passiamo al pezzo forte per i giocatori del Battle Royale. Come detto poc'anzi finalmente diciamo dopo 3 anni ritorniamo su Rebeer Thailand. La mappa comunque non ha diciamo avuto grossi cambiamenti se non in modo positivo. I punti di interesse sono sempre gli stessi quindi abbiamo Bio, abbiamo Chemical, abbiamo Doc, abbiamo Control, abbiamo soprattutto Prison. Molto probabilmente il meteo sarà variabile e a proposito di variabile ci saranno alcuni punti della mappa che saranno dinamici. In che senso? Se per esempio noi tireremo un bombardamento sul tetto di prison è molto probabile che il tetto per l'appunto verrà sfondato e si cadera giù. Così come succederà probabilmente che sarà anche la parte della torre quella dove la maggior parte dei cecchini andava a camperare sarà anche questa dinamica. Nel senso che se tireremo un bombardamento la torre crollerà. Già al lancio della nuovissima season verrà introdotto anche il contratto missione del campione per intenderci è la nuke. Praticamente su diciamo in corso di season bisognerà fare 30 win altrimenti 5 win di fila per sbloccare per l'appunto la missione del campione che è una missione abbastanza difficile perché già l'ha fatta. Praticamente dovremmo fare saltare in aria Rebirth con una bomba nucleare per sbloccare così la skin speciale sia per l'arma sia per diciamo la skin per l'operatore. Ovviamente sono stati allargati leggermente i confini della mappa per permettere anche sulla mappa di Rebirth Thailand di poter utilizzare il nuoto e quindi di poter effettuare i fight diciamo sotto acqua. Per l'appunto la mappa come dicevo poc'anzi non è stata diciamo stravisata completamente ma è soltanto diciamo c'è stato un bilanciamento di colore che la rendono più viva simile a Fortune Skip. Ovviamente ancora non è stato specificato se verrà fatta a rotazione con Fortune Skip ma è molto probabile di no quindi rimarrà soltanto la modalità classificata Rebirth Thailand. Ritornando alla roadmap come potete vedere qui in basso ci saranno quattro nuovissime armi sbloccabili all'interno del battle pass di cui una arriverà in corso di season e sto parlando del BAL 27. Questo sniper che vedete qui sotto il Morse si vocifera sia un possibile ritorno del car soprannominato car futuristico. Quattro nuovi operatori di cui uno di questi nel Black Cell e insomma fatemi sapere che cosa ne pensate di diciamo di questa nuovissima season a me praticamente garpa parecchio e soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate appunto del ritorno di Rebirth Thailand che la community chiedeva da tantissimo e dico tantissimo tempo. Io ti ricordo se ancora non l'hai fatto di lasciare like e iscriverti al canale lascia un commentino seguimi anche nella piattaforma viola dove sono in live ogni sera a partire alle 21.30 e come sempre ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti